La Presidente oggi era prevista conienza preliminare di Lucio per quanto riguarda l'accusa di calunnia. Cosa è successo nel frattempo? Lucio non si è presentato? No, non si è presentato ma non sappiamo se c'è una rinuncia o se non è stata disposta la traccia. Lo sapremo fra poco. E quindi adotteremo tutte le iniziative del caso conseguenti. Era possibile che Lucio potesse rilasciare delle dichiarazioni anche oggi? Ma non l'ho sentito e non so che cosa voleva essere fare, lo consulterò in previsione della prossima udienza che vediamo quando sarà fissata. Ho capito, alla luce di questo rinvio lei potrà chiedere voi di riti alternativi? Se il processo viene rinviato oggi, se no oggi o mai più. Nel frattempo Lucio in questi giorni lo ha sentito dopo la sentenza di condanna? Lo ha sentito più sereno, più tranquillo? Dopo andare a Cagliari ma non mi è stato possibile. Ottavio, quindi lo stato d'animo di Lucio dell'ultimo periodo dopo la sentenza? È molto prostrato, è molto prostrato.